Sì, sono stracontento di questa vittoria e soprattutto per il gol fatto, è una bella gioia e niente, siamo strafelici di questo. Lo spero, sinceramente, quello che hai appena detto tu. Sì, io penso che in quel momento c'è una questione di attimi, anche un po' di condizione fisica, era abbastanza stanco. Però penso che quello si può migliorare, poi con il gol, con le belle giocate vengono da sé. Certo, sono nato anch'io come un ragazzo molto di strada, quindi è bello anche quello. Ovviamente mi prendo dei rischi, a volte so che esagero e devo togliere da mezzo questa cosa. Sì, quello che devo dire è che questo gruppo ha questa qualità e io pure sono un giocatore che mi do tanto da fare. Sono molto generoso, come ha detto il mister, ed è bello questo, perché sai che loro ci sono per te e tu ci sei per loro. Ma dietro le punti, come abbiamo giocato contro il Palermo, è stato bello, però come già ho detto, in qualsiasi posizione basta che gioco. Senta, a chi lo dedichiamo questo gol, Sibilli? La mia ragazza, perché mi è stata molto vicino, erano 6-7 mesi che non facevo gol, quindi penso che se lo merita veramente. Visto un po' anche quello che è il calore del tipo Biancoroso, non te lo immagino, un po' anche questo primo gol al San Nicolo. Oggi l'hai fatto davanti a mille, tipo di Biancoroso, in trasferta a Cremona. Spero che mercoledì si può avverare questo sogno qua. Grazie a tutti.